D'accordo, ma ascoltami. Non puoi tornare indietro. Non puoi scappare. Non farti vedere spaventata. Facciamolo. So che stanno mettendo alle strette gli ebrei. Sarà terrorizzato. Dobbiamo nascondere le nostre alleanze. O non ce la faremo. Mip, quello che ti sto chiedendo di fare è pericoloso. Se ti scoprissero potrebbero arrestarti o fare di peggio. Devi aiutarmi a nascondere la mia famiglia. Prenditi il tempo necessario per riflettere. No, non devo. Che cosa devo fare? Come posso aiutarla? Mi dica dove posso trovare Otto Frank. Quando me l'avessi detto? È il mio capo e un mio amico. Che avrei dovuto fare quando il signor Frank me l'ha chiesto? Dire no! Informarmi! Non devo consultare te se voglio salvare la vita a qualcuno. Quelle persone hanno perso tutto e ciò nonostante resistono. E devo resistere anch'io. Appicheremo un incendio. Le cose erano belle. Devo pensare che lo saranno di nuovo quando tutto sarà finito. Dobbiamo essere noi a scegliere quando affrontarli. Non devono farlo loro per noi. Il mio unico lavoro è proteggere la mia famiglia. La regina vuole il mio diario. Sono impaziente di vederlo. Tutti giù, tutti giù! Copritevi la testa. Non possiamo salvarli tutti. Se ora non provassi a fare tutto il possibile, non riuscirei mai più a guardarmi allo specchio. Tutti giù, tutti giù, tuttiざ ように pensare. Tutti giù, tutti giù, tutti gelsi allo specchio. Grazie a tutti.